Ancora ben ritrovati gentili telespettatori, nuova edizione del telegiornale del Veneto orientale. In apertura parliamo di cronaca e parliamo di una donna ora accusata di falso, lei avrebbe ribadito di essere invalida, tanto che la Commissione aveva stabilito un 100% di invalidità con tanto di pensione e indennità. Ma secondo la Guardia di Finanza questa donna di Porto Gruaro non avrebbe alcun titolo a quei soldi, tanto meno alla invalidità del 100%, tanto da filmarla durante i suoi passaggi in riva all'Emene e ribadendo che lei era una falsa invalida, per questo è stata denunciata. Sentiamo il servizio d'apertura del telegiornale. Completamente invalida, tanto da non riuscire nemmeno a camminare e a dover ricorrere agli ausili, ma la Guardia di Finanza, la smaschera nei guai, una donna di Porto Gruaro. In procura a Pordenone i militari del gruppo della cittadina dell'Emene hanno portato anche i filmati che evidenziano come Cicci, una 58enne di origine napoletane ma residente in pieno centro a Porto Gruaro, non avesse alcun bisogno di aiuto per camminare. Anzi, secondo gli investigatori della finanza, la donna avrebbe architettato un piano preciso per ingannare il proprio medico e la stessa commissione che l'aveva sottoposta alle verifiche. Tutto era iniziato nel dicembre di otto anni fa, quando la donna si era presentata dai sanitari sostenendo varie disfunzioni che non le avrebbero permesso una vita regolare, tra cui una sindrome nervosa extrapinamidale legata ad una depressione. Insomma, la paziente sarebbe stata in condizioni precarie, tali per cui le era stata riconosciuta una riduzione della capacità nel lavoro dell'80%. Il 5 luglio dello scorso anno, la 58enne si era poi presentata dal suo medico di famiglia, lamentando questa volta anche il morbo di Parkinson e la difficoltà a parlare. Da qui ne derivava la impossibilità di poter deambulare e compiere ogni gesto con regolarità. Insomma, per la donna napoletana la vita sarebbe diventata un calvario, tanto da dover ricorrere agli ausili e percepire una indennità per poter vivere. E così il 22 agosto del 2016, la 58enne si presenta di nuovo davanti alla Commissione. Non resta altro quindi che trovarsi ad un nuovo esame tremante, contatto di carrozzina ed un ematemuo all'occhio sinistro, che si sarebbe provocato proprio per la caduta dovuta al suo grave stato di salute. Per la Commissione non resta altro da fare che riconoscere alla malcapitata la totale invalidità, suffragata anche dalla difficoltà della 58enne a parlare. Dal mese di agosto del 2016 alla paziente viene quindi riconosciuta una indennità mensile di 516,43 euro, oltre una pensione di altri 297,47. Tutto sarebbe filato liscio per le fiamme gialle, che hanno invece voluto fare dei controlli. E' quindi scattata l'indagine, sotto legida dal procuratore capo di Pordenone, Raffaele Tito. I militari hanno pedinato a lungo la donna, registrando tanto di video in cui si muoveva senza alcun problema. Da qui la denuncia per la truffa ai danni dello Stato e il sequestro di 7200 euro, che la donna, ora difesa dall'avvocato Paolo Lazzaro, avrebbe percepito senza alcun titolo. E ancora cronaca, questa volta da noventa di piave, ha cercato di cambiare direzione alla vista della pattuglia della polizia stradale, appostata in prossimità del casello autostradale noventino, ma il comportamento della donna al volante, pregiudicata, con due anni in carcere da scontare, ha subito insospettito gli agenti che hanno proceduto con il controllo di rito e il successivo arresto. Sulla donna, che guidava una Fiat a grande punto senza patente, pendeva un ordine di carcerazione, emesso dal Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno, a seguito di una condanna per reati contro il patrimonio. La delinquente, di finire dietro le sbarre, proprio non ne voleva sapere, ed ecco perché si è arrivata alla macchia con successo. Prima di incappare nella pattuglia della postrada, nel veneziano, qui è bastato consultare database interforze della polizia per mettere le manette ai polsi della donna. Gli uomini in divisa hanno condotto la pregiudicata nella casa circondariale femminile della Giudecca dopo aver contestato le infrazioni al codice della strada. L'automobile è stata sequestrata ed ora è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Andiamo a Iesolo, invece, un hotel doveva essere costruito con tanto di terme annesse, fior di soldi erano stati raccolti, ma di quell'hotel non di quell'hotel, non se n'è fatto poi più nulla. Ora quel promotore dell'importante iniziativa che doveva essere uno sviluppo per Iesolo finisce alla sbarra, finisce a giudizio per questo hotel fantasma. Sentiamo. Tra il 2010 e il 2014 ha raccolto qualche milione di euro da persone interessate alla realizzazione di un lussuoso hotel con una struttura termale annessa a campo da golf da realizzare nell'area del Parco Campagna a Iesolo. Da allora però il progetto è rimasto nella carta e alcuni dei finanziatori non hanno più rivisto i loro soldi. E così Giorgio Vidali, 55enne, originario di San Donato, residente a Iesolo, è stato rinviato a giudizio con l'accusa di truffa, nonché di evasione fiscale, in relazione a ingenti somme di denaro incassate e non dichiarate al fisco, con un'evasione di imposta contestata pari ad oltre 500 mila euro nel 2009, 344 mila nel 2010, 348 mila nel 2012. A disporre l'invio a giudizio dell'imprenditore è stato il Gup Roberta Marchiori. Il processo si aprirà il 6 febbraio di fronte al giudice Andrea Battistuzzi. Contro Vidali si sono costituiti parte civile un impresario musicale milanese che versò oltre 600 mila euro, di cui 200 mila restituiti, e uno Iesolano che affidò al vicino di casa tutti i suoi averi, 300 mila euro, di cui 75 mila restituiti, che aveva ricevuto come risarcimento a seguito dell'amputazione di una gamba. Assieme all'Iesolano si è costituita anche la madre, che partecipò all'affare con 30 mila euro, di cui 11 mila poi restituiti. Entrambi sono assistiti dall'avvocato Andrea Angeletti, il quale chiede risarcimento dei danni patiti. In un primo momento il PM Stefano Ancilotto aveva chiuso le indagini chiedendo l'archiviazione del fascicolo, ritenendo che la questione fosse di natura civilistica. La Procura Generale ha però avvocato l'inchiesta e il sostituto PG Maristella Cerato ha ora ottenuto il rinviaggiudizio di Vidali. L'imprenditore, assistito dall'avvocatessa Marta De Manicor, si difende negando la truffa e sostenendo di essersi limitato a cedere quote della società blu immobiliare per un progetto che era intenzionato a realizzare. Secondo l'avvocato Angeletti dovrà però spiegare che fine hanno fatto circa 3 milioni di euro. Vidali, conosciuto anche per i suoi trascorsi musicali, nel 2007 partecipò alle operazioni di sostegno del marchio di Venezia, con un disco che avrebbe dovuto raccogliere soldi per la città. Per convincere della bautà del progetto immobiliare di Jesolo, ai finanziatori mostrò una brochure pubblicitaria del gruppo alberghiero THKR, del quale sosteneva di essere incaricato e per assicurarli in merito all'iter urbanistico avrebbe presentato loro la moglie, l'architetto Alessandra Spessato, che all'epoca lavorava nell'ufficio tecnico del comune di Jesolo. A Portuguaro il picchetto d'onore oggi per Francesco Chioatto, il 32enne di Porto Gruaro, caporal maggiore dei Lagunari. Sono stati proprio i commilitoni a rendere omaggio al feretro del militare deceduto il 3 dicembre scorso a Lisbona per un incidente stradale. Il feretro ieri è rientrato dal Portogallo con un aereo di linea aterrato al Marco Polo con mezz'ora di ritardo ad attenderlo i familiari di Chioatto che hanno seguito il carro funebre fino a Portuguaro, poi è stato trasferito al cimitero, mentre oggi è stato celebrato il funerale. I propri militari del reggimento Lagunari Serenissima hanno accompagnato il feretro del commilitone al grido di San Marco nella chiesa di San Nicolò a Portuguaro. Il cerimoniale ha visto lo stesso picchetto al fianco della barra durante tutta la cerimonia iniziata verso le 15, poi il feretro di Francesco Chioatto è stato accompagnato nel cimitero cittadino. Il militare era rimasto investito da un'auto il 30 novembre scorso, mentre il 32enne stava attraversando una strada del centro di Lisbona sulle strisce pedonari, tutto al vaglio dell'autorità giudiziaria di quel paese che ha anche disposto l'esame autottico per chiarire il decesso sulle giovane di Portogruaro. A Motta di Rivenza invece c'è una sentenza che arriva dal Tribunale di Pordenone che potrebbe fare scuola in merito ad una sentenza di divorzio. La donna dopo la separazione e il divorzio aveva chiesto 1200 euro di assegno dall'ex marito, assegno che poi è stato però bloccato dal Tribunale perché la donna aveva di fatto instaurato una nuova relazione che aveva portato ad nuovi ingressi, nuove entrate appunto nel nuovo nucleo che faceva parte di questa donna. Al di là che fosse amicizie o comunque una relazione sentimentale poco importa al Tribunale, fatto sta che comunque le entrate c'erano. Da qui appunto la decisione del Tribunale di revocare quell'assegno mensile. Ma sentite il servizio. Niente assegno alla ex moglie, la donna sosteneva inizialmente di vivere da sola e di non essere in grado di lavorare avendo una invalidità civile del 46%. All'ex marito che abita nel Mottense chiedeva un assegno mensile di 1200 euro, ma l'ex marito ha dimostrato che la donna conviveva con un altro uomo. Inoltre, a seguito di un'apposita perizia fatta eseguire dal proprio legale, l'avvocato Petergino Franco Miotto ha dimostrato che la signora è in grado di lavorare. Sulla base di queste risultanze, il Tribunale di Pordenone ha respinto le richieste della donna. L'ex marito non dovrà corrispondere a alcun assegno per il divorzio. In corso di causa, l'avvocato Miotto ha provato che tra la donna che abita a Brugnera e il nuovo compagno c'era stata una convivenza, anche anagrafica. Poco importa che la signora abbia affermato che fra i due ci fosse una semplice amicizia, come due studenti universitari. La novità introdotta da questa sentenza del Tribunale di Pordenone, evidenzia legale, è che basta che la relazione ci sia stata anche per breve tempo, che ci sia una certa comunanza di vita, ad esempio dividano le spese. Cosa che del resto avviene fra gli universitari che si ritrovano a condividere il medesimo alloggio proprio per abbassare i costi. È indifferente, è un passaggio della sentenza che la relazione si sia protratta per un breve periodo, che sia quindi venuto meno ogni legame intimo e che la coabitazione sia poi proseguita solo per ragioni di amicizia, ragioni tali comunque da indurre tuttora la donna a considerare il partner un punto d'appoggio nei momenti di difficoltà. Più avanti la sentenza specifica, la formazione di una famiglia di fatto costituzionalmente tutelata è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per la assoluzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e quindi esclude ogni residuo a solidarietà post-matrimoniale con l'altro coniuge. La donna asseriva di non essere in grado di lavorare perché invalida al 46%. Da parte mia specifica all'avvocato Miotto, ho prodotto una perizia medico legale, la quale non solo attestava che l'ex moglie era capace di lavorare, ma anche che avrebbe trovato più facilmente lavoro perché idonea ad essere inserita nelle liste di collocazione mirata. Il tribunale ha revocato alla donna il beneficio del gratuito patrocinio, in quanto avrebbe dovuto accumulare il suo reddito con quello del suo nuovo amico, non rientrando così nei parametri. Una sentenza pilota. All'ex coniuge evidenza legale, Uppitergino, basterà provare magari mediante un'attività investigativa che l'ex moglie e marito frequentano in modo continuo un'altra persona per far venire meno l'assegno di Vursile. La donna è stata condannata alla rifusione delle spese sostenute in giudizio, liquidate in 98 euro per anticipazioni e in 3.972 per compenso. A Ponte di Piave al via i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche lungo i marcipedi di Via Chiesa a Negrisia di fronte a Villa Vurbs. Si tratta di un intervento richiesto durante alcuni incontri pubblici tra l'amministrazione e i residenti, un intervento che non è necessariamente indirizzato alle sole persone con disabilità, come ha spiegato lo stesso sindaco Paola Roma. Abbattere le barriere architettoniche è uno dei principali obiettivi perseguiti da questa amministrazione, ha detto il sindaco. L'accessibilità riguarda tutti, i disabili, gli anziani, i bambini e per finire i genitori. Ecco perché, ha detto, siamo convinti che l'accessibilità sia fondamentale per lo sviluppo sostenibile di un paese. Migliora, ha detto, la qualità della vita e rende più vivibile l'ambiente urbano. Ci sarà nello specifico l'abbattimento delle barriere che consiste in un abbassamento delle cordonate per consentire la salita e discesa in modo più agevole, un costo che sarà di 7.000 euro, ma ci sarà anche una rotonda a Negrisia per rendere più sicura l'incrocio a Negrisia. Torniamo a Jesolo e parliamo ancora di tassa di soggiorno dopo il botta e risposta tra le sezioni di categoria e l'amministrazione comunale sulla definizione, ovvero su quanto raccogliere e quindi stabilire sulla raccolta della tassa di soggiorno. Ebbene, l'amministrazione comunale domani in consiglio comunale deciderà il da farsi. Intanto emerge che è stata accolta la proposta, prima degli albergatori e poi del resto delle associazioni di categoria, di allargare la maglia della tassa di soggiorno, ovvero tutto l'anno, non solo durante il periodo di alta stagione. Sentiamo il servizio. Tassa di soggiorno, il Comune è pronto ad allargare l'applicazione a tutto l'arco dell'anno. Sarà questa la principale novità del regolamento sulla imposta che proprio domani sera verrà portato all'approvazione del Consiglio Comunale. Si tratta di una modifica suggerita all'amministrazione comunale da tutte le associazioni di categoria dopo l'iniziale proposta di aumento avanzata dal Comune. Il principio è quello di spalmare l'imposta il più possibile per evitare un sensibile ritocco delle tariffe. Gli uffici del Comune in queste ore stanno completando i nuovi conteggi con le nuove proiezioni, garantendo comunque un aumento di gettito di 1 milione e 800 mila euro. L'imposta verrà pagata tutto l'anno, eccetto il 2018. In considerazione dei tempi distretti, per il prossimo anno la tassa entrerà in vigore dal primo marzo per essere poi applicata dal primo gennaio a partire dal 2019. In questo modo ci potrà essere un ritocco alle tariffe inizialmente proposte dal Comune, calmerando gli aumenti calibrandoli al tempo stesso tra le varie categorie. Sempre secondo il nuovo regolamento, a non pagare l'imposta saranno i bambini fino ai 10 anni, mentre il pagamento dell'imposta dovrebbe scattare per i soggiorni fino a 10 giorni. Tutte le associazioni di categoria ci hanno proposto di applicare la tassa per tutto l'anno, commenta il sindaco Valerio Zoggia, quindi credo che questa soluzione verrà adottata senza grossi problemi. Stiamo ritoccando le tariffe, ma i conteggi non sono ancora ultimati, anche perché in questo caso le proposte che ci hanno presentato le categorie sono diverse. In ogni caso il principio che verrà adottato sarà quello di confermare l'aumento di gettito per le casse del Comune di 1.800.000 euro. Si tratta di risorse che verranno investite nella promozione, nella realizzazione di nuove piste ciclabili, nella sicurezza e nel potenziamento della rete Wi-Fi. Intanto dei banchi di opposizione ad annunciare battaglia sono i consiglieri della lista Iesolo Benecomune, Cristofer Dezzotti e Luca Spavanetto, che hanno presentato tre emendamenti. Siamo contrari all'aumento dell'imposta, dicono i due consiglieri, che si dovrà essere l'aumento che diamo che una parte di queste risorse venga accantonata per finanziare le opere di difesa dalla spiaggia. Per lo stesso motivo ribadiamo che è opportuno rilunciare a Miss Italia risparmiando in questo modo 500.000 euro. Da Iesolo a Bibione per parlare dell'ecocentro in Rivalmare. Asvo ha informato che l'ecocentro di via Parenzo a Bibione resterà chiuso al pubblico da lunedì 25, poi martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato 30 dicembre e nonché lunedì 1 gennaio. Da martedì 2 gennaio l'impianto quindi resterà nuovamente aperto al pubblico come da orario prestabilito. Ci sono ulteriori informazioni che si possono recepire dalla stessa Asvo al numero verde 870 55 51, lo ripeto, 870 55 51, che è attivo da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 15. E adesso Vinicio Scortegagna con un nuovo scatto dal territorio per Fotoreporter. Grazie Vinicio Scortegagna, grazie a voi tutti per aver scelto il telegiornale del Veneto orientale. Ci ritroveremo con le altre news e continuate a seguirci anche attraverso la pagina Facebook e YouTube di Media24. Buon proseguimento con i nostri programmi e risentirci. Alla prossima edizione.